Al mio tre fischierò la canzone del Cerbero Podcast, o meglio la relativa sigla. Uno, due, tre. Via! Vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi in cui ho fischiato apertamente la sigla del Cerbero Podcast. Vi avviso che non voglio ricevere sotto a questo commento o me questo video di oggi commenti del tipo se è un coglione falla finita hai rotto il cazzo con questi video sul Cerbero Podcast fatti un pacco di cazzi tuoi eccetera eccetera. Sono libero di fare ciò che voglio del mio canale come tu sei libero libera di scrivere ciò che vuoi va bene però sapendo che esiste anche il reato di diffamazione e o di insulto di molestia. Quindi io faccio i video che voglio se non ti piacciono i miei video puoi vedere altri video ce ne sono miliardi su youtube quindi puoi andarti a divertire come caspita vuoi. Questo video nasce come anche gli altri relativi al Cerbero Podcast come autentici omaggi io faccio degli omaggi a loro che mi auguro piacciono e riscuotrano anche un discreto successo. Omaggi che significa ammirazione stima perché sono arrivato a 2000 e passi iscritti lo devo ovviamente a loro anche loro hanno avuto iscritti secondo me grazie a me perché io avevo 700 iscritti già in partenza prima del Cerbero ogni giorno ricevevo migliaia di commenti però adesso la popolarità è cresciuta e sto quasi per diventare azzardo a dire un personaggio pubblico. Grazie da Leandro iscrivetevi mi raccomando commentate civilmente in maniera educata al prossimo video una buona giornata